ciao mi è stato chiesto come fare per riprodurre i video in flash su linux in particolare su ubuntu quindi sto facendo questo tutorial per spiegarvi come fare che può essere non intuitivo su windows andate su adobe flash player e scaricate flash player e lo installate su linux non è così intuitivo quindi ci sono due metodi il primo seguite la mia guida grafica il secondo al fondo di questo video c'è uno script e niente lo copiate lo incollate e fate doppio clic più o meno quasi e lo eseguite e questo fa tutto però questo è per dopo cerchiamo di farlo in modo grafico prima allora innanzitutto mettiamo la lingua della tastiera in italiano perché ci serve scriviamo keyboard ok possiamo andare su sotto keyboard regione languages clicchiamo qui abbiamo il linguaggio se volete cambiarlo formato bla 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 qui su input sources mettiamo più cerchiamo italiano ok italian aggiungi ed ora qui in alto destra abbiamo italian ok ora la tastiera è in italiano cosa fare innanzitutto dobbiamo aggiungere la repository multiverse la troviamo su ubuntu software ok stavo dicendo software center e da qua aspettiamo un attimino che si carichi tutto quanto ok qui in alto a sinistra clicchiamo su ubuntu software poi software e updates e si apre questa schermata ora per raggiungere multiverse che dove sta peper flash quello praticamente programma che ci serve per eseguire per riprodurre i flash allora schiacciamo qui e gli diamo close ok lui dovrà riscaricare tutti i pacchetti aggiornati o meglio la check dei pacchetti quindi non i pacchetti in sé e aspettiamo un attimino se volete potete avere i dettagli io bevo ok ha finito adesso il ubuntu software possiamo chiuderlo quindi ci servirà il terminale per il facciamo ctrl alt t oppure delle applicazioni cerchiamo proprio term eccolo qua le applicazioni erano in basso a sinistra qua show applications ora dobbiamo scrivere questi comandi quindi apt search e scriviamo peper invio troviamo ora tutti questi risultati dobbiamo installarli quindi search l'abbiamo fatto per trovarli perché sennò magari ricordarci la memoria un casino così invece ce li abbiamo proprio stampati ora per installarli scriviamo sudo apt install e ci servirà il browser plugin flash player potete selezionare copy e lo incolliamo quindi paste poi anche pepper flash plugin non free ecco qua copy e lo incolliamo diamo invio e ci dirà che deve scaricare 12 mega di archivio quindi aspettiamo un attimino poi si installeranno e presto a poco è questo ok ora possiamo fare un test apriamo mozilla firefox e cerchiamo flash video test flash video esempio ok schiacciamo su run si vogliamo consentire a firefox di usare cioè a flash player di eseguirsi in questo sito e funziona funziona perfetto ok quindi questo è il modo in cui si fa play dei video flash su linux sostanzialmente vi serve pepper flash e se non avete proprio ubuntu in particolare potrebbero essere diversi pacchetti voi comunque se avete altre distribuzioni fate sempre una ricerca per flash se non trovate probabilmente non avete il repository attiva quindi come in questo caso su ubuntu c'è multiverse ora se vogliamo fare la stessa cosa però vogliamo utilizzare una live quindi in questo caso una live e noi la prossima volta non vogliamo di nuovo dovere scrivere tutti e muoverci col mouse di qua e di là e fare roba vogliamo ad esempio metterlo su una chiavetta quindi mettiamo magari su su un'altra chiavetta o su una parte persistente della chiavetta insomma ci mettiamo questo script e lo script è questo qua allora creiamolo quindi andiamo sul dove eccolo qua text editor e dobbiamo scrivere questo che io vi scrivo e lo trovate sotto nella descrizione comunque allora cancelletto punto esclamativo barra bin bash a capo poi add apt repository multiverse a capo ora questo lo copio perché ok è lungo da scrivere quindi qui abbiamo apt install che l'abbiamo fatto prima pepper flash plugin non free che l'abbiamo messo prima e browser plugin flash player pepper flash anche questa l'abbiamo messo la y sta per si accetta non mi chiedere la conferma di prima abbiamo dovuto schiacciare si vogliamo installare i pacchetti qui li installa e basta e basta quindi lo salviamo salva lo mettiamo ad esempio in questo caso potrebbe essere una chiavetta io lo metto qui sul sul nostro desktop sulla home quindi lo chiamo ad esempio script punto sh ecco qua salva ecco che ha anche cambiato colore chiudi e vado sul files ora io questo non lo posso eseguire perché non è eseguibile clicco col destro proprietà permessi e quindi devo spuntare consenti di eseguire questo file come programma quindi allow chiudi e ora per eseguirlo apro il terminale di nuovo questa volta faccio ctrl alt t faccio prima e lo devo eseguire come super user quindi dovrò scrivere sudo sudo vuol dire super user to quindi sostanzialmente sono i privilegi di amministrazione e li trascino script fine invio ed ecco che lui dice ovviamente che già installato perché l'abbiamo installato prima però sostanzialmente fa le stesse cose che abbiamo fatto quando abbiamo acceso il computer quindi è molto più veloce vi consiglio se utilizzate una live e volete spesso vedere video in flash fate così fatevi uno script e poi lo eseguite ogni volta questo è tutto se avete altri dubbi non vi preoccupate potete scrivermi sotto se riesco vi aiuto sono francesco yoshi e lasciatemi pensieri critiche metodi alternativi soprattutto sono interessato ai metodi alternativi e vi saluto ciao